Borraccia cecoslovacca, ex dotazione patto di Varzavia. La borraccia è nuova, in perfetto stato, ha solo dei segni dovuti al maneggio e allo stoccaggio. Questa borraccia è stata in dotazione dell'esercito cecoslovacco dagli anni 50-60 fino ai primi anni 80. Il tappo probabilmente è stato cambiato nel tempo in quanto è difforme dalla borraccia in polimero grigio, ma il cordino sembra quello originale. La borraccia ha un cinghiaggio a croce che la tiene ferma e fa sì che sul retro si crei un'asola per agganciarla al cinturone. Qui possiamo sganciarla da questa cinghietta, passare la cinghietta sopra e all'interno vediamo che è in alluminio, interamente in alluminio, nuova, mai utilizzata. All'esterno troviamo una fodera in panno agganciata con dei bottoncini automatici, panno di lana molto spesso e il colore interno della borraccia possiamo vedere di un bel verde. La capienza non dovrebbe essere molto approssimativamente, dovrebbe stare intorno a 0,75. Abbiamo un logo presente sul collo Finiture un po' grossolane ma efficaci e sicuramente funzionale. Qui abbiamo due passanti metallici Si assomiglia molto alla borraccia Wehrmacht Seconda Guerra Mondiale Finiture un po' grossolane ma efficaci e sicuramente non dovrebbe essere un po' grossolane. Allora, qui abbiamo dovuto essere un po' grossolane ma efficace e sicuramente non dovrebbe essere un po' grossolane. Grazie.